E ha dimostrato di essere ad esempio una ginasta piena di presenza perché ha ripreso in maniera mirabile un lancio corto e lei se ne accorta nonostante stesse facendo delle capovolte. Ecco Giulietta Cantalupi con il suo metro di 64 ha caratteristiche atletiche completamente differenti, grande esplosività come possiamo vedere da questa fune. Ed ha, mi permetto di dire, anche un maneggio d'attrezzo che quasi nessuno al mondo ha, l'ha dimostrato facendo questa corsetta e facendosi girare la fune intorno al busto che sembra che abbia una calamita ma nella realtà non ce l'ha, possiamo assicurare che non ce l'ha, è solo sua capacità e bravura. Però ce l'ha nel DNA perché non ci stancheremo mai di ricordare che lei è figlia di Cristina Ghiurova, proprio campionessa del mondo del 1979 a Londra. Proprio alla fune. Oh, che brava. doveva entrare dentro la fune aperta e invece gli ha fatto fare una cosa ancora più difficile che però non avendola segnata sulla fisce non gli verrà data l'entrata della fune ma prenderla con un piede, l'è girata intorno al piede e quindi ha salvato quel movimento vedete infatti la stessa Cristina sorride perché ha salvato il movimento ecco vedete per cui la fune non è caduta, lei non è entrata nella fune e immediatamente ha ripreso l'esercizio per vedersi valutate e abbonate